eccoci insieme nella Voyager Cup vedete che la cap è diversa è in alluminio quindi questa è indistruttibile e serve per essere portata in giro e nel racconto di questo viaggio al centro della terra che vi farò nei prossimi giorni questa è la puntata zero per raccontarvi quello che vi occorre di media se volete raccogliere materiale fotografico filmati e materiale diciamo digitale per la vostra per il vostro viaggio in Islanda innanzitutto cosa vi occorre la famosissima e cartacissima cartaceo formato cartaceo guida che è sempre aggiornata quindi avete visto che guida è non ci sono grossi problematiche da questo punto di vista ce ne sono altre di guida prendete la guida che più vi aggrada ma anche la più nuova poi quali sono le altre cose che vi occorrono per un viaggio in Islanda innanzitutto un mio consiglio è quello di crearvi grazie a google maps l'itinerario una volta che avete pronotato gli alberghi e su quello potete chiedere anche al vostro agente di viaggio di fiducia perché vi saprà dire esattamente a seconda del percorso che volete fare e le attrazioni da vedere quale itinerario più consono al vostro viaggio comunque la creazione di questo itinerario su formato cartaceo dove scrivere punto per punto a seconda della giornata della tappa le cose che ci sono da vedere in quella zona poi utilizzerete insieme anche la guida in modo da incrociare le cose insomma è una cosa che aiuta tantissimo perché poi la guida non sempre si legge poi se c'è brutto tempo se piove perché andate in un posto dove il tempo cambia ogni minuto l'Islanda che cos'è l'Islanda è un'isola bellissima incernierata in mezzo all'oceano atlantico che fa veramente da cerniera tra due placche tettoniche ed è un'isola che è ancora in movimento è ancora in diciamo in evoluzione e che vi fa tornare all'epoca diciamo più antica della del nostro pianeta è un'isola che è scolpita dal vento è scolpita dalle onde del mare è scolpita dal lento movimento di ghiacciai ed è scolpita anche dalla praticamente dallo scorrere dei suoi fiumi delle sue cascate e anche dalle eruzioni dei suoi vulcani è una zona che è un'isola che è divisa in due da una placca tonica dove si può andare a vedere di persona questa appunto questa divisione e capita in pochissimi altri luoghi vediamo cosa ci occorre per fare un viaggio con almeno quello che ritengo possa essere utile dal mio punto di vista è quello che porterò via io durante questo viaggio allora innanzitutto una vecchissima ma fedelissima camera con le sue schedine all'interno perché perché la qualità di una videocamera o di una macchina fotografica e qui c'è appunto una scelta differente a seconda se sia fotografi o se invece si vuole fare il filmmaker uno non è peggio dell'altro uno non è meglio dell'altro bisognerà bevere allora l'ideale sarebbe una macchina fotografica che faccia delle bellissime fotografie che faccia anche dei bellissimi filmati in questo caso io non ho tanti soldi da spendere quindi riutilizzo finché mi dà la possibilità di farlo la mia buona videocamera fa anche delle fotografie sicuramente la risoluzione non sarà quella di una reflex se invece amate solo la fotografia buttatevi sulle reflex per quello quindi abbiamo detto una videocamera poi una sport cam che è utilizzabile soprattutto in quei momenti in cui dovete avere le mani libere oppure mentre state nuotando per esempio se andate a fare e lo snorkeling nella faglia di silfra questa è fondamentale e perché vi darà la possibilità di nuotare e mentre voi nuotate in acqua avete la possibilità di filmare quello che state facendo anche di fare fotografie per quello quindi anche se andate in ghiacciaio se andate in motoslitta se andate con i cani con le slitte con i cani insomma le cam sportive sono l'ideale non solo per gli sport acquatici ma anche per gli sport un pochettino più estremi dallo sci appunto alla roccia insomma dove dovete avere le mani comunque libere quello che viene filmato viene filmato dovete capire quello cosa ci occorre poi ancora ci occorre un fantastico trasformatore perché è fondamentale le prese sono fondamentali in in vacanza quando si muove per un viaggio quindi una presa universale questo è un vecchio modello ma funziona ancora molto bene in islanda la presa è tedesca quindi al solo due poli e poi cosa ci occorre ancora ci occorre per i filmati se usate il cellulare un gimbal che è utilissimo sia per le riprese in a fermo sia per le riprese in movimento un paio di cuffie con microfono perché l'islanda è famosissima per il vento quindi non si può filmare o almeno non si può commentare a volte perché il vento è talmente forte che copre la voce quindi questa è fondamentale una chiavetta utilissima per tirare fuori la vostra tessera dal cellulare per cambiare la testa della memoria l'energia è quella cosa che dobbiamo sempre avere quindi avere dei power bank è quella cosa che ci dà la possibilità di non interrompere mai e non rinunciare mai ai filmati infine per chi ama i panorami e le cose le riprese vento permettendo ad ampio a campo largo un bellissimo trepiede che va bene sia per la videocamera che per la macchina fotografica e un monopiede che anche questo caso funziona meglio per la videocamera perché vi dà la possibilità di riprendere anche ad altezze differenti magari a strappiombo in alcuni punti dove voi non potete arrivarci perché è pericoloso ok queste sono cose che sono importanti dovete fare sempre cose in sicurezza insomma questo è quello che vi occorre e che mi occorrerà dal punto di vista di base per un proprio per un bel viaggio appunto di islanda grazie a te